Laurea magistrali, accendi il tuo talento. Ciao, sono Andrea, studente all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Ambientale e per la Sostenibilità degli Ambienti di Lavoro. Il mio percorso all'Insubria inizia già con il corso triennale e ho deciso di proseguire i miei studi per affinare ulteriormente le mie conoscenze nei campi di Ambiente e Sicurezza, anche per prepararmi al meglio per il mondo del lavoro, che spesso richiede conoscenze più specifiche fornite da una laurea magistrale. Il nostro corso ci consente di approfondire tematiche come la depurazione delle acque, l'ingegneria del fuoco, la sicurezza nell'industria e le tecnologie per la sostenibilità energetica. Un punto forte del corso di ingegneria è anche la presenza del comitato di indirizzo, un organo in cui l'università collabora con le aziende per migliorare in continuo la didattica. Grazie a questa collaborazione è possibile anche per gli studenti effettuare tirocini in differenti settori. Io la mia scettola fatta, ora tocca a voi. Buona fortuna! Grazie a tutti!